E a conclusione del nostro telegiornale di oggi che come tutti avete visto è andato in anticipo, è salito in redazione il sindaco di Caltanissetto Roberto Gambino perché avevamo un appuntamento in sospeso, quindi nonostante la giornata oggi sia abbastanza complicata, piena di impegni, ha voluto assolvere questo appuntamento. Poi in collegamento con la collega Anita Donisi parlerà della settimana santa, del risveglio della città e di quello che è accaduto, però io invece con me l'impegno è il Policlinico e gli altri argomenti che poi fanno fibrillare, quindi lasciamo i nostri telespettatori su questi argomenti così ci pensano durante i giorni delle festività. Bene, il Policlinico, a che punto siamo? Ci doveva dare delle novità e mentre a Enna fanno suonare le campane, le vostre trombe dovrebbe essere così? Bello, questa in qualche maniera è una cosa invitante. Allora, a parte le trombe, gli appuntamenti sono il 22, l'assessore Razza ha convocato di nuovo il tavolo tecnico, per cui là in quella sede vedremo operativamente come andare avanti, ma chiaramente noi stiamo approfondendo con i nostri esperti la tematica. Sul tavolo Razza ha messo la fondazione, però secondo noi non è la strada giusta, quindi stiamo andando a verificare una serie di condizioni che devono andarsi a portare avanti perché noi non ci fermiamo a quello che ci dice l'assessore Razza. Dobbiamo anche fare delle nostre proposte che devono essere prese in considerazione. Le faccio due domande secche, l'idea del policlinico diffuso ce l'avete ancora come cavallo di battaglia? Uno, due, ovviamente la fondazione si è capito che era un palliativo giusto per prendere tempo, e però sindaco qualsiasi cosa si debba fare si deve fare entro questa finanziaria, ci riuscirete? Allora, noi ci stiamo provando, ma non è una prova così, forse ci proviamo, è una cosa a cui noi teniamo tantissimo. Il policlinico diffuso è forse una definizione sbagliata perché recentemente in un intervento del dottor Cataldo Salerno, che è il presidente di Unicore, le questioni sono uscite sul tavolo, tutte per come devono uscire, perché ha chiarito il dottore Salerno che l'Università Core, era l'Università Core, Centro Sicilia, Caltanissetta ed Enna, e qualcuno se l'è fatta scappare dalle nostre parti, ma noi non ci faremo scappare nulla, perché in quel tipo di Ateneo fatto su due province, ma non solo su due province, ma su un'area centrale della Sicilia, che diciamocelo pure chiaro, per andare da una parte all'altra di Palermo ci si impiega un'ora e mezza, per andare da Enna a Caltanissetta ci stanno anche dieci minuti, con un servizio di navetta serio ci può stare anche meno, addirittura nel 2026, che è dietro l'angolo, le due stazioni di Caltanissetta ed Enna a Bassa saranno operative, sulla Palermo Catania ci stanno pure tre minuti forse, di treno veloce, per cui non parliamo assolutamente di queste cose, sono problemi irrisolvibili, cioè chiaramente le cose da valorizzare sono ciascuno su un territorio, e il dottore Caldo Salerno la cosa che mi ha fatto particolarmente riflettere ha detto chi è rimasto fuori può salire da un momento all'altro, cioè queste cose sono sicuramente delle cose per me positive, perché al di là delle questioni campanilistiche fatte da un deputato o l'altro a me non interessa, Vabbè, deputati, consigli comunali, consiglieri comunali, sindacati, ma non è importanza, non è importanza, possono fare quello che vogliono, più compatti rispetto a noi sono, tutti sono più compatti rispetto a Caltanissetta. Su questo ci sono delle tematiche che escono fuori, ma escono fuori in maniera confusa, attenzione, perché pur a Enna sono consapevoli che da soli non vanno da nessuna parte, per cui la idea nostra, che è quella che deve andare avanti, è stare con i territori uniti e fare un'operazione territoriale importante, che non è più neanche quella di aria vasta di cui si parlava prima, ma è proprio mettere insieme i due territori che sono assolutamente omologhi e farli sviluppare insieme. Noto di averla stimolata, però io dovrei farle anche un paio di domande, giusto perché il mio lavoro è questo, ruoli e cose varie. Ovviamente il presidente Cataldo Salerno si è smarcato da qualunque forma di polemica, dal punto di vista istituzionale, questo è chiaro, il titolo è questo. Salerno si smarca dalle polemiche sul Policlinico, da un lato. Ha fatto benissimo. Dall'altro lato comunque bisogna anche dare atto, io credo di averlo scritto in un servizio qualche settimana dietro, che Caltanissetta non è una città compatta perché i politici, poi quelli nazionali e quelli regionali, che a loro modo dovrebbero dare delle indicazioni o comunque anche un appoggio, poi alla fine, come dicono a Bolzano, si buttano dietro il pietrone e dunque cosa succede? Dunque succede questo, che Roberto Gambino diventa un uomo solo al volante oppure uno che combatte contro i mulini a vento, perché questa è l'impressione che si dà. Lei ha ricevuto segnali di appoggio da parte dei deputati. Sì, certo. Sì, e come? Questo sicuramente, noi abbiamo fatto delle riunioni con i deputati del nostro territorio. Ah, non durante le processioni, nelle processioni non li dicono niente. No, processioni non si parla di politica, non si parla proprio, si segue la processione religioso silenzio e si va avanti. Quello è una cosa. No, ci sono state delle riunioni con i deputati del Movimento 5 Stelle, io questo lo devo dire, sia con i regionali che con i deputati nazionali, e si stanno studiando le strategie. Su questo non ci sono dubbi. Ma un altro aspetto io tendo a sottolineare. Io non voglio essere un uomo solo al comando, non voglio essere un uomo solo. Essere un uomo solo è molto pericoloso da queste parti, lo sa benissimo. E quindi io voglio sicuramente portare avanti i temi, ma li voglio portare avanti in maniera condivisa. Non solo con i politici locali, che sono di livello nazionale, di livello regionale, e i segnali li ho avuti, ma li voglio portare con la gente. Tant'è che ho autorizzato l'uso del Margherita per il 2 di maggio. Un gruppo di persone che me lo hanno chiesto e va bene, ma io ho già incontrato tutte le associazioni di Caltanissetta. Dobbiamo completare perché sarà fatta un'assemblea cittadina organizzata da un gruppo social che è 4.01, 4.0 comunque, organizzata da questo gruppo social che è un'assemblea cittadina, dove sarà uno degli argomenti o l'argomento fondante? No, è l'argomento principale e penso l'unico argomento, perché obiettivamente è chiaro che io a livello locale devo tenere una linea che è giusto perché devo difendere la città e i miei concittadini. Però vuole ascoltare la gente. I deputati, sia regionali che nazionali, devono fare il loro lavoro, però dobbiamo sentire i nostri concittadini, dobbiamo sentire loro che ne pensano, ma soprattutto dobbiamo avere il sostegno dei cittadini, che devono essere in questo caso consapevoli di quello che sta accadendo. E se i deputati regionali e nazionali avessero il coraggio di venire e confrontarsi con i cittadini durante l'assemblea? Saranno sicuramente il benvenuto. Ma il coraggio ce l'hai, non te lo puoi far venire come scriveva Manzoni nei promessi scorsi. Io non ho un problema di coraggio, io sarò lì. No, no, però sarebbe bella questa cosa. Che devo andare a collaborare con i cittadini per raggiungere gli obiettivi. Università Caltanissetta, Banca d'Italia, quali le novità? Avete fatto una riunione? Le novità sono che abbiamo fatto un'assemblea del Consorzio, abbiamo dato il benestare al Presidente per continuare su questa strada. La notizia buona è che Banca d'Italia ha portato avanti dei bandi per la vendita degli altri edifici. Questo lo ha bloccato perché avendo avuto la notizia certa, perché ci sono state delle comunicazioni da parte del Consorzio, hanno tutto l'interesse di andare a conferire il bene in questa maniera. Per cui, in qualche maniera, diciamo, abbiamo fatto dei passi avanti importanti. Allora, il tempo a nostra disposizione è finito, il telegiornale si deve concludere. Lei deve andare ovviamente ai festeggiamenti del giovedì santo, uscirà dietro Caifas, che è la vara del Comune. Noi intanto la ringraziamo. Questo è un appuntamento al quale non può dire di no, perché le dobbiamo fare delle domande alle quali la città ha bisogno di dare risposte. Ci vediamo comunque sicuramente prima, ma all'assemblea cittadina è fondamentale vedersi. E rinnoviamo l'appuntamento anche con i deputati, perché è giusto che imparino ad ascoltare la gente, perché poi la gente è quella che vota, la città, come lo chiama lei il popolo. Bene, grazie sindaco, buon lavoro e buona Pasqua. Grazie, saluti per tutti, grazie. E buona Pasqua a tutti, scusate.